ciao ragazzi io sono Emanuele bentornati su questo mio canale dedicato alla fotografia e al videomaking oggi ottavo capitolo di questo nostro piccolo corso per videomaker oggi parliamo dell'otturatore l'otturatore così come la lunghezza focale l'apertura del diaframma è un altro degli strumenti creativi a nostra disposizione per raccontare una storia l'otturatore può controllare il motion blur lo sfocato del movimento al fine di ottenere il famoso film look e inoltre può anche modificare l'esposizione tranquilli di tutte queste cose parleremo tra poco l'otturatore è un disco rotante che fa passare la luce solamente quando è aperto e la finestra nella quale la pellicola viene esposta viene misurata in gradi questo disco quindi può essere più aperto o più chiuso va anche detto che ormai la maggior parte delle camere moderne hanno otturatori elettronici però capire come funziona un otturatore classico ci è di grande aiuto come ho detto prima l'otturatore determina il motion blur ovvero lo sfocato del movimento perché in base alla velocità dell'otturatore utilizzata si avrà una ripresa più o meno fluida l'otturatore a 180 gradi è il più diffuso dal momento che aggiunge la giusta quantità di sfocatura affinché un'immagine sembri effettivamente in movimento anche perché se ci pensiamo il video cos'è non è altro che è una serie di immagini che si susseguono e con l'otturatore a 180 gradi l'immagine viene esposta per metà del tempo nel cinema ormai è consuetudine lo saprete riprendere a 24 fps a 24 fotogrammi per secondo nel senso che in un secondo ci sono 24 immagini vengono registrate 24 immagini che si susseguono dando così l'idea del movimento e utilizzando un otturatore a 180 gradi abbiamo un tempo di esposizione conseguente di un 48esimo di secondo però se vediamo sulle nostre reflex o mirrorless che utilizziamo per fare i video non lo troviamo un 48esimo di secondo tra i tempi di esposizione ma si può tranquillamente utilizzare per ripresa 24 o 25 fotogrammi al secondo il tempo di un cinquantesimo mentre invece se riprendiamo a 30 fotogrammi al secondo dovremo utilizzare un tempo di un sessantesimo di secondo tenendo sempre a mente questa regola che in base ai fotogrammi per secondo scelti per le nostre riprese dobbiamo raddoppiare il tempo di esposizione ma questa naturalmente è solo una regola e chi lavora nel campo video e fotografico sa che infrangere le regole ci può donare tantissimi effetti molto interessanti ad esempio se volessimo avere delle scene molto frenetiche per un film d'azione potremmo utilizzare un tempo minore più rapido che ci restituisca immagini più nette viceversa utilizzando un tempo maggiore più lungo otterremo riprese poco nitide e un po mosse magari per simboleggiare un sogno oppure un momento distordimento del nostro protagonista se invece utilizzando un tempo minore cambiassimo anche gli fps i fotogrammi per secondo seguendo quindi la regola che ho citato poco fa otterremo una scena a rallentatore fluida che ne so riprendiamo a 60 fotogrammi al secondo e come tempo di esposizione utilizziamo un cento ventesimo di secondo raddoppiando gli fps all'inizio di questo video ho detto poi che l'otturatore può anche controllare l'esposizione ecco in casi particolari ad esempio in condizioni di scarsa illuminazione riprendendo a 24 fotogrammi al secondo ad esempio e avendo appunto poca luce a disposizione non siamo per forza obbligati a utilizzare un cinquantesimo possiamo anche utilizzare un quarantesimo di secondo perché la differenza non è che si noti così tanto ma utilizzando un quarantesimo di secondo possiamo recuperare un po di luce inoltre quando scegliamo un tempo di esposizione dobbiamo anche tener conto delle eventuali luci che stiamo utilizzando per illuminare la scena ad esempio le luci al neon creano un forte sfarfallio a causa della frequenza della corrente alternata per ovviare a questo problema lo sfarfallio basta ricordarsi che in europa i tempi di sicurezza sono un cinquantesimo e un centesimo o comunque nei paesi con la corrente a 50 hertz invece nei paesi con la corrente a 60 hertz come ad esempio gli stati uniti i tempi di sicurezza sono un sessantesimo e un centoventesimo e occhio anche a quando riprendiamo schermi di computer o televisore perché anche in questo caso rischiamo di avere dello sfarfallio infine un'ultimissima cosa il sensore digitale quando cattura un'immagine registra riga per riga una dopo l'altra un'azione rapidissima che tuttavia quando effettuiamo dei movimenti molto rapidi può causare il cosiddetto rolling shutter ovvero le linee dritte possono apparire storte perché praticamente il sensore non fa in tempo a registrare un frame che noi ci siamo già spostati l'immagine comunque è già cambiata e quindi rischiamo di avere le linee storte è un fenomeno che è molto evidente nelle riprese delle pale degli elicotteri e alcune macchine moderne adesso hanno il cosiddetto global shutter nel senso hanno un sensore che legge in una botta sola diciamo l'immagine tutti i pixel vengono letti tutti insieme allo stesso momento però una tecnologia ancora non alla portata di tutte le camere in commercio ma naturalmente tempo al tempo e sarà presente anch'essa su tutte le camere bene ragazzi anche questo capitolo sull'atturatore si conclude qua io spero che sia stato interessante se avete dubbi o domande come sempre lasciatemi un commento qua sotto e ragazzi ancora una volta grazie della visione dell'iscrizione di tutti i commenti che mi lasciate io vi do appuntamento ai prossimi capitoli ciao a tutti